Parliamo di sonno e disturbi del sonno. Per quanto riguarda il sonno abbiamo varie categorie di patologie, nella fattispecie abbiamo le dissonnie, le parasonnie ed altre patologie tra cui le RLS e le OSAS. Le dissonnie sono disturbi quantitativi, quindi si parla di insonnia e ipersonnia. Le parasonnie invece sono disturbi non quantitativi, bensì qualitativi e dipendono dalla fase del sonno, quindi dissonnie, problemi quantitativi, parasonnie, disturbi qualitativi. La fisiologia. Il sonno è una temporanea soppressione della coscienza con modificazione delle funzioni corporee e innalzamento della soglia. Abbiamo due fasi, una prima fase di sonno quieto e una seconda fase di sonno attivo. Il sonno quieto è il cosiddetto non REM, quindi è quello senza movimenti oculari e con respiro e frequenza cardiaca regolari, quindi ha fasi 1, 2, 3 e 4 ed è il cosiddetto sonno ristoratore. Il sonno attivo, differentemente da quello quieto, è il sonno ovviamente REM, quindi rapid eye movements, quindi movimenti oculari con respiro e frequenza che sono questa volta irregolari, frequenza cardiaca si intende. Il sonno ha una ciclicità caratteristica, si passa dallo stadio 1 dove abbiamo EG con PE che denota la perdita progressiva delle onde alfa, allo stadio 2 dove ci sono scariche di onde lente e quindi complessi K. Dallo stadio 2 poi si passa al 3 e al 4, quindi stadi di sonno profondo dove le scariche sono con onde più alte e poi dal 4 si ritorna allo stadio 2, si può passare alla fase in stadio 2, poi fase 1 e si passa al REM che è appunto una fase con EG desincronizzato con basso voltaggio però elevata frequenza. Quindi ripetiamo stadio 1 con perdita delle onde alfa all'EG. Dallo stadio 1 si passa allo stadio 2 dal quale poi si può o andare verso lo stadio 3 e 4 oppure verso il REM. Quindi lo stadio 2 è caratterizzato da queste scariche di onde lente e complessi K, stadio 3 e 4 invece con scariche con onde più alte mentre il REM è l'esatto contrario, cioè abbiamo onde con ampiezza più ridotta però elevata frequenza, quindi ridotto voltaggio ma elevata frequenza. Ogni sonno presenta un'alternanza di circa 3-4 cicli di quello che di questo appunto di questi stadi che abbiamo evidenziato. Ogni ciclo ha la fase REM più lunga. Dal punto di vista ontogenetico il sonno è generato da fattori C e fattori S che sono praticamente processi biochimici complessi. Il fattore C ovviamente è il fattore circadiano, il fattore S è quello relativo al sonno. Il fattore circadiano è quello che riguarda la produzione ormonale la quale subisce delle variazioni durante il sonno con fondamentalmente melatonina, soprattutto ormone coinvolto ovviamente nell'inesco del sonno, proprio prodotto in relazione a quella che è la funzione al ciclo luce buio. Quindi fattore C circadiano, produzione ormonale, modificazioni durante il sonno, soprattutto melatonina. Fattore S sonno, dopo una certa durata di deprivazione di sonno ovviamente si ha il cosiddetto sonno lungo che ha una maggiore percentuale di sonno profondo. Quindi se ti tengo in deprivazione di sonno poi ti addormenti, comunque avrai una prevalenza di non REM sul REM. Quali sono le funzioni del sonno? Di fatto noi conosciamo bene quelle del sonno non REM, quelle del sonno REM ancora sono poco chiare. Durante il sonno REM abbiamo un consolidamento dei processi di memorizzazione e una eliminazione dei prodotti di rifiuto perché il cervello non ha dei vasi linfatici che lo drenano. Mentre per quanto riguarda la memorizzazione abbiamo la regolazione delle sinapsi formate durante il giorno, quindi il sonno solo durante la fase non REM, ripeto consolidamento della memorizzazione e eliminazione dei prodotti di rifiuto. Gli esami strumentali sono la polisonografia e il monitoraggio cardiorespiratorio. La polisonografia si basa tra le altre cose della misurazione dell'EG, cioè l'elettroencefalogramma, che misura l'attività corticale ovviamente. L'EOG, che è la valutazione dell'elettrooculogramma, quindi dei movimenti oculari. L'EMG, che valuta la contrazione della muscolatura del mento, che sarà presente quando siamo in fase REM, in fase non REM, quindi il tono è conservato. Mentre nella fase REM, come sappiamo, c'è atonia, quindi EMG, EOG, EEG. E questa è la valutazione neurologica. Poi questa viene corredata nell'ambito della polisonografia, col cosiddetto monitoraggio cardiorespiratorio, che si utilizza per fare propriamente diagnosi di osas, quindi si fa la saturimetria, si mette al paziente il nasello, che serve per valutare il flusso respiratorio, si fa una valutazione dell'olterpressorio e infine la banda pletismografica, quindi una fascia toracica, che serve per valutare l'espansione. Quindi in sintesi, EEG, EOG, EMG, oltrepressorio, fascia toracica, saturimetro, nasello. Adesso parliamo di patologie, cominciando dalle dissonnie, che abbiamo detto essere disturbi quantitativi, non qualitativi, del sonno. Cominciamo subito con l'insonnia, che può essere iniziale, intermedia o finale. Iniziale sarà una fatica all'addormentamento, quella finale sarà una, invece, risveglio precoce. L'insonnia deve essere correlata a un malessere comunque durante la veglia, altrimenti è parafisiologica, quindi se il soggetto sta male durante la veglia, allora lui ha effettivamente un problema di insonnia, quindi la qualità della vita risente della privazione del sonno, altrimenti no, è anche parafisiologico, potrebbe dormire poco perché in realtà non ne ha bisogno. Si tratta comunque questa disciplina, questa patologia, con sedativi ipnotici, quindi benzodiazepine, quindi il rischio di rebound, perché chiaramente le benzodiazepine danno comunque a sue fazione, lo zolpidem, che è il farmaco più sicuro, zolpidem e zopiclone, che sono farmaci, se non ricordo male, agonisti dei recettori della melatonina, e poi abbiamo il trittico, che sarebbe il trazodone, che è anche un antidepressivo, quindi benzodiazepine, trazodone e zolpidem. L'ipersonnia, invece, è una patologia, sempre nell'ambito delle dissonnie, che viene ad essere nota col nome più comune di narcolessia. Qui il paziente manifesta proprio attacchi di sonno improvvisi con cataplessia, cioè proprio cade a terra, c'ha un'atonia improvvisa e un'eccessiva sonnolenza di urna, quindi abbiamo detto attacchi di sonno REM improvvisi con cataplessia ed eccessiva sonnolenza di urna. La diagnosi si fa con la valutazione MSLT, quindi praticamente è un test particolare dove metto il paziente in una stanza da solo e vedo se si addormenta. Mi serve per fare diagnosi differenziale con l'epilessia, quindi diagnosi, abbiamo detto MSLT, metto il paziente in una stanza da solo e vedo se si addormenta. Abbiamo poi le parasonnie, abbiamo detto disturbi qualitativi del sonno, e si dividono a loro volta in disturbi di arousal, non REM, e disturbi di REM, della fase REM. I disturbi di arousal sono disturbi della fase di risveglio, e quindi abbiamo il sonnambulismo, il cosiddetto risveglio confusionale. Il sonnambulismo si verifica durante la prima parte della notte, prevalentemente in pazienti giovani. Il risveglio confusionale è tipico del bambino invece, mentre il sonnambulismo abbiamo detto dei giovani. Quindi il bambino si sveglia all'improvviso, ma è come se dormisse, quindi c'è solo la funzione motoria ma non sensitiva, quindi magari si muove però è addormentato. Disturbi del REM invece sono soprattutto l'RBD, cioè il REM Behavioral Disease, che è praticamente il cosiddetto disturbo comportamentale REM, dove il paziente interpreta quello che sta sognando, prevalentemente colpisce il soggetto anziano e correla, sembrerebbe, con il Parkinson. Di fatto l'RBD è in realtà l'esecuzione, leggendo dal libro, di movimenti anche violenti durante il sonno, che sono in realtà correlati al contenuto di quello che il paziente sta sognando. La cosa strana è che sono movimenti chiaramente molto ampi, molto precisi, sembrano quasi finalistici, e il paziente se li ricorda, li sa inserire e iscrivere nella cornice del sogno che stava facendo in quel determinato momento. Quindi questo è l'RBD. Quindi, ripetiamo, gli arousal sono sonambulismo, risveglio confusionale, i REM sono gli RBD. Poi abbiamo due patologie che c'entrano forse meno con le parasonnie e le dissonnie. Parliamo della Restless Leg Syndrome e delle OSAS. La Restless Leg Syndrome, RLS, sarebbe un disturbo con fastidio in cui il paziente sente il bisogno di muovere le gambe prima di addormentarsi e io aggiungerei anche durante il sonno, da quello che abbiamo studiato in nefrologia. Questo perché può essere una patologia effettivamente secondaria anche a un'insufficienza renale cronica, che qui non è stata messa. La diagnosi è clinica, quindi abbiamo quattro caratteristiche, cioè il bisogno di muovere le gambe, il sollievo dopo aver le mosse, l'insorgenza a riposo e il peggioramento la sera. Quindi il paziente può avere anche un risveglio notturno. Quindi bisogno di muovere le gambe, ha un sollievo dopo aver le mosse, può insorgere a riposo e addirittura peggiora di sera con tanto di possibilità di risveglio. La patogenesi, dicevamo, abbiamo due forme. Una forma idiopatica, una secondaria, che può essere legata, qui dice, ad anemia sideropenica, diabete, gravidanza. Io aggiungerei anche insufficienza renale cronica, quindi anemia sideropenica, diabete, gravidanza, IRC. Il trattamento, anche qui, i sintomi sono dovuti a una, sembrerebbe, diminuzione della dopamina, quindi darò un farmaco con azione opposta, quindi darò dopamino agonisti e avrò una risposta immediata. Se il paziente non risponde alla terapia, darò opioidi. Quindi trattamento, abbiamo detto, con dopamino agonisti, se non risponde opioidi. Concludiamo con le OSAS, le apnee ostruttive nel sonno, che sono di fatto la presenza di apnee o ipopnee, quindi apnee sono l'assenza del flusso aereo, le ipopnee sono invece una riduzione del flusso. In entrambi i casi, ovviamente, c'è un'alterazione della saturazione. La patogenesi, abbiamo fattori di rischio che sono soprattutto l'obesità e le malattie cardiovascolari. Queste determinano una riduzione del passaggio dell'aria per le vie aeree che sono ristrette dal grasso, quindi in fase REM, dove c'è un'atonia muscolare, abbiamo l'insorgenza di apnee. Quindi, obesità e malattie cardiovascolari, riduzione della compliance muscolare in fase REM, ampeggiorata dal fatto che c'è atonia e il soggetto va incontro ad apnea. Dal punto di vista clinico, il paziente avrà sintomi notturni e diurni, quindi notturni, avrà nicturia, risvegli durante la notte e il russamento, quindi nicturia, risveglio e russamento. Gli sintomi diurni saranno, per esempio, risveglio difficile, la faticabilità, la cefalea diurna, sonnolenza notturna, qui parla di emicrania. Abbiamo anche disfunzioni umorali, quindi dell'umore e disfunzioni sessuali nel 30% dei pazienti, quindi sonnolenza, emicrania, disturbi dell'umore e disfunzioni sessuali. La diagnosi come si fa? Valutando il rapporto apnea-ipopnea, che deve essere superiore a 5, quindi diagnosi, quindi c'è l'apnea-ipopnea index, poi c'era tutto il discorso della forma lieve, della forma intermedia e della forma grave, quindi grave sopra 30, apnea-ipopnea ora, quindi qui apnea-ipopnea ora si valuta. Il trattamento è con la CPAP prevalentemente, poi abbiamo anche tecniche chirurgiche, ma non ci interessano in ambito neurologico, quindi CPAP è un dispositivo a pressione positiva, quindi si attiva quando si sente automaticamente la riduzione del flusso, quindi CPAP automatico.